Buongiorno a tutti, riprendiamo la lettura del diario di Ugo Cavallero. Negli ultimi giorni ne abbiamo un po' lasciato da parte, andando a toccare altri argomenti tra cui alcune fortunate recensioni di film. Io vi ringrazio perché ultimamente alcune recensioni di film hanno suscitato un certo consenso nel pubblico non solo tra gli iscritti, perché addirittura la recensione del film I Girasoli hanno superato il numero degli iscritti. Quindi va da sé che c'è almeno una parte sovrabbondante rispetto ai canonici iscritti al canale che hanno avuto modo di vedere e magari anche di apprezzare quella specifica recensione. Quindi vi ringrazio in maniera generalizzata i vecchi iscritti, coloro che in maniera affettuosa in maniera fedele seguono questo canale e anche coloro che magari capitano occasionalmente tra i video di questo canale. Ma torniamo al diario di Cavallero. Il diario di Cavallero siamo arrivati ormai al 30 novembre 1942. Finiamo il mese di novembre e con una situazione direi assai tragica. Non che i giorni precedenti fossero rose e fiori, anche perché siamo nel deserto, quindi un po' difficile. Però a parte questo, a parte le battute, il discorso è assai complesso per una serie di incognite che vanno dalla parte tattica, meramente tattica, alla parte strategica e fino ad arrivare ovviamente alla componente politica che determina sempre con grande affanno, con grande ricasco continuo dei tedeschi. Ormai siamo alla fine del 42, quindi diciamo che di cosa vogliamo parlare? Sappiamo benissimo che da lì a un anno la situazione in Italia sarebbe stata ancora peggiore con una doppia realtà istituzionale, con delle contrapposizioni veramente di una efferatezza incalcolabile sotto ogni punto di vista, una guerra fratricida che appunto in qualche modo viene un po' ad essere la conseguenza di una gestione complessiva del conflitto deficitaria, una gestione che faceva un po' acqua da tutte le parti, quindi diciamo probabilmente era l'inevitabile conseguenza di questi mesi funesti. Torniamo quindi al 30 novembre, ovviamente parla Cavallero, ricevo il maresciallo Kesselring, i Pirosca, Fiammarziglia e in altri porti francesi sarebbero ritirati da equipaggi tedeschi per essere consegnati all'Italia in un porto qualsiasi tipo Genova o La Spezia. Qui è il grande problema della divisione del bottino francese sostanzialmente e come sappiamo all'Italia non toccheranno che le molliche. Ciò per evitare inconvenienti all'atto della consegna atti di sabotaggio, quindi diciamo sostanzialmente gli italiani o i tedeschi non si fidano di lasciare direttamente agli italiani perché pensano che i francesi potrebbero essere particolarmente cattivi, particolarmente poco consenzienti a questa gestione, magari pensano che loro invece sono padroni e quindi fanno come gli pare. Kesselring dice di aver fatto proposte al Führer per risolvere la situazione di Biserta, presa in consegna delle navi con promessa di restituzione. Restituzione di 30-40 mila prigionieri francesi, eventuale trasporto di francesi con famiglie in Francia da Tunisi. Impiego dei rimanenti nel posto come mano d'opera. Circa il caso Rommel, ossia la grande indipendenza ordinamentale e ordinativa dello stesso Rommel, Kesselring dice Non capisco come Rommel sia arrivato a una così stupida decisione. Ecco che Kesselring non lo capisca, lo capiamo noi perché Rommel è talmente pervaso, ha un ego smisurato, sa benissimo quanto ascendente ha ancora all'indirizzo del Führer e si permette di fare, come si suol dire, il porco del comodo suo, a torto o a ragione. Mi rego a conferire con il Duce, sempre dice Cavallero, è presente a parte del colloquio il maresciallo Gering. Ricevo Magli che mi informa su un suo colloquio con il generale von Rosting. Ricevo Facca Maggiolini, necessità che la Ciaffla, Commissione Italiana Armistizio con la Fia Arancia, metta i propri organi a disposizione della Quarta Armata per la consegna delle armi contenute nei dispositivi armistiziali. Qui emerge un'altra problematica che in parte abbiamo già detto, ma lo ripetiamo perché ripetita Juvent, nel senso che il problema sostanziale dei territori francesi occupati dagli italiani nasce dal presupposto che vi era una pregressa organizzazione militare composta dalla Ciaff, la Commissione Italiana Armistizio con la Francia, che aveva però dei poteri limitatissimi, in teoria amplissimi, in realtà poi di pratica veramente pochi, che gestivano sostanzialmente tutta una serie di incombenze burocratiche, che però erano state costituita per gestire solo la parte effettivamente occupata dagli italiani, ossia quella occupata nel giugno del 40. Con l'occupazione dei dipartimenti della Provenza, Rodan, eccetera, ovviamente vi è la necessità di utilizzare anche truppe operanti della Quarta Armata che ovviamente hanno un comando d'Armata che vuole avere voce in capitolo sulla gestione e quindi c'è un conflitto di attribuzione tra Vacca Maggiolini, vertice della Ciaff e il comandante Vercellino della Quarta Armata. Quindi abbiamo un grosso problema nella gestione delle due filiere che poi sostanzialmente andrà tutto a vantaggio della Quarta Armata perché la Ciaff già aveva poche incombenze e poi alla fine viene sostanzialmente svuotata già di quel poco che conteneva. A stringere, ho fatto un riassunto. Consegno al Duce il seguente promemoria circa la situazione in Africa. Cioè, apri il virgolettato. Punto primo. La situazione generale del Nord Africa impone il dovere di impedire all'avversario la congiunzione delle due armate operanti in Libia e in Tunisia. Ne consegue la necessità che l'armata corazzata italo-tedesca, operante in Tripolitania, imponga all'avversario un movimento in avanti il più lento possibile e perciò mantenga le posizioni il più a lungo possibile. Ciò anche per consentire il potenziamento delle unità già sbarcate in Tunisia, alle quali spetta è il compito di ampliare la testa di sbarco e successivamente respingere le unità anglo-americane e decolliste oltre il confine tunisino e fino alle basi di sbarco. Gli è perciò che all'armata corazzata italo-tedesca della Libia è stato dato ordine di mantenere il contatto con l'avversario, obbligandolo ad uno schieramento di forze per l'eventuale attacco e ripiegare in tempo di posizione in posizione qualora questo attacco si manifestasse con assoluta superiorità. Tali disposizioni corrispondono al parere espressamente formulato dall'OKV, sia l'alto comando della Wehrmacht. Punto secondo. Nel quadro operativo di cui al precedente numero il potenziamento dell'armata corazzata italo-germanica sotto tutti i punti di vista costituisce ed è bensì condizione necessaria ma non indispensabile al 100% in quanto l'armata corazzata deve ottenere il rallentamento dell'avanzata dell'avversario nella misura che i mezzi con cui è possibile alimentarla potranno consentirle. Cioè è necessaria ma non indispensabile che è poi una contraddizione in termini. O è necessaria o non è necessaria ma se è necessaria è anche indispensabile. Vabbè comunque sono quegli arzigogoli che sostanzialmente poi dicono dobbiamo resistere fino all'ultimo uomo però diciamo che dobbiamo anche garantire una certa continuità. Alla realizzazione dalle condizioni il comando supremo dedica ogni particolare cura perché il potenziamento stesso è in rapporto diretto alle possibilità di resistenza e conseguentemente ha ricercato guadagno di tempo e di spazio. Sostanzialmente si vuole la botta in viena e la moglie ubriaca. Punto terzo. Ciò premesso. Quindi premesso che bisogna resistere, resistere, resistere. A. Dal 4 novembre inizio ripiegamento armata. Sono partiti dall'Italia per Tripoli numero 14 piroscafi per complessive 39.000 tonnellate circa di materiale, 529 automezzi e 124 mezzi corazzati. Di questi sono giunti a destinazione numero 11 piroscafi con complessive tonnellate 32.000 circa di materiali, 518 automezzi, 124 mezzi corazzati. Degli automezzi del tonnellaggio suindicato appartengono alle forze germaniche 124 mezzi corazzati, cioè tutti, 11.000 tonnellate di materiale circa, 190 automezzi, 14 mezzi corazzati. B. La capacità di scarico del porto di Tripoli all'inizio e durante l'offensiva in corso risultava sensibilmente ridotta non tanto per la deficienza di manodopera quanto soprattutto per scarsità di attrezzatura portuale, che su richiesta della stessa autorità germanica era stata trasferita a Bengasi, Tobruk e altri porti e da ancoraggi dell'Egitto. Quindi sostanzialmente non arriva tutto e quel che arriva è anche difficile scaricarlo. Ed allora quando, per lo sviluppo assunto dalle operazioni, il nemico ha potuto potenziare Malta, l'ufusi in fabbola, anche i bombardamenti susseguentisi di giorni e di notte sul porto di Tripoli hanno ulteriormente diminuito la già ridotta capacità di scarico, quindi mandiamo roba senza poi avere neanche la possibilità di scaricarla e quindi di utilizzarla. Ne è pertanto, cioè però si risolve il problema del trasporto, perché comunque i trasporti sono assai ridotti, quindi almeno quello non servono tantissimi trasporti, però non è scaricata, quindi è un problema anche quello. Ne è pertanto conseguita una lunga sosta dei piroscafi mercantili in porto, conseguente temporaneo blocco del porto stesso, quindi il porto è bloccato, le merci non vengono scaricate, i navigli rimangono bloccati, non possono tornare in Italia o in Sicilia, quindi non viene fatto un ulteriore eventuale ricambio, oltre al fatto che essendo in porto magari sono anche facile il bersaglio dei bombardamenti, quindi diciamo una situazione da mettersi le mani nei capelli. Su tale situazione ha altresì fortemente influito la mancanza assoluta di nafta nel porto di Tripoli, mancanza che ha impedito alle navi di scorta di rifornirsi e di fare tempestivamente, di fare rientrare in patria i piroscafi già scarichi, quindi anche quelli scarichi, quelli che sono riusciti a scaricare la merce, non possono comunque tornare in Italia perché manca la nafta. io non so che dirvi, quasi quasi era meno tragico il diario di Roatta, qui uno ride per non piangere proprio. nonché l'imprevisto e improvviso trasferimento in detto porto del naviglio che con materiali sgombero aveva dovuto ripiegare da Tobruk e successivamente da Bengasi, quindi abbiamo anche altre incombenze nel porto di Tripoli. quarto, indipendentemente dalla situazione sua esposta, il comando supremo, mentre disponeva per il ripristino dell'attrezzatura del porto di Tripoli e per il potenziamento della difesa contraerea, provvedeva al potenziamento dell'armata corazzata rotelesca con avviamento. via mare, piroscafi, chisone e veloce, con automezzi e carburanti, piroscafi, palmaiola, edruria, audace, con carburanti tutti in partenza nella giornata del 30, sommergibili vari con munizioni e carburante, poi via aerea, personale, armi, munizioni e carburanti, via terra da Tunisi per Gabesh, un'autocolonna di autotreni partita il giorno 29 da Tunisi. avviamento questo non vuol significare che la via di rifornimento terrestre per la Tunisia possa considerarsi normale e ciò in dipendenza della situazione operativa locale. Anche qui non vi fate troppo affidamento che è pure quella. Oggi va bene, domani chissà. Punto 5. In relazione a quanto è detto al punto 1, il guadagnare tempo e spazio non richiede in modo assoluto un flusso interrotto di rifornimenti a Tripoli, ma una alimentazione sufficiente all'armata per l'assolvimento del suo limitato compito. Cioè sostanzialmente non è che serve tutto questo materiale, in fin dei conti non è che dobbiamo resistere tanto, cioè l'inverno, basta resistere quel tanto che basta per permettere di svangarla un pochettino. Quindi diciamo, non vi preoccupate, nel senso che anche se non arriva tutto, o anche se non arriva, se anche se arriva poco, ecco, se anche se arriva poco non vi preoccupate. Trova sempre l'ottimismo Cavallero, cioè Cavallero veramente è il maestro dell'ottimismo. In vista di tale necessità, il Comando Supremo ha mantenuto e continua a mantenere il traffico marittimo con Tripoli. Con cosa? Vabbè. Ed i programmi predisposti prevedono l'avviamento via mare, entro il 15 dicembre, di circa 20.000 tonnellate di materiali e carburanti, oltre a non meno di 500 autoveicoli, mezzi corazzati compresi. Che poi il problema è, sì, manteniamo i contatti, tanto non si possono scaricare, quindi c'è ancora più ingolfato, manca la nafta, manca la nafta, come fanno? Mi sembra tutto, come era? Necessaria ma non indispensabile. Quelle cose che giusto in Italia esistono, in Italia esiste il concetto di ex ergastolano, quindi di fronte al concetto di ex ergastolano, anche necessario ma non indispensabile, è una forma corrente. Punto 6. E' fuori dubbio che perché si è assicurato l'arrivo a destinazione e il conseguente scarico di tutti i piroscafi avviati dall'Italia, occorre a neutralizzare fortemente Malta, già neutralizzare, se è neutralizzare è proprio già neutralizzare, poi fortemente Malta, non sei riuscito in due anni e mezzo, lo fai adesso, assicurare B, l'assicurare la tempestiva disponibilità della nafta occorrente, ci serve sì, C, destinare al traffico per l'Africa settentrionale tutto il naviglio mercantile che per velocità e per picchi di carico si presti allo scopo e l'Italia ha già dato tutto quello che aveva e quindi chi lo offre? Chi lo deve offrire? Con lo comunica al Duce, Duce, troviamo naviglio, beninteso che la possibilità di mantenere, di alimentare contemporaneamente il traffico per la Tunisia e la Depolitania dipende essenzialmente dalla disponibilità del naviglio di scorta, disponibilità che causa le perdite e le avarie e insensibile continua diminuzione. Quindi diciamo, ancora, su ciò riferirà a parte la Regia Marina, quindi diciamo, la Regia Marina farà un resoconto che già mi sembra preoccupante, nel senso che io sono esterrefatto proprio, nel senso che questo è il 30 novembre, Cavalero sarebbe stato altri due mesi circa come capo di Stato Maggiore Generale e poi sappiamo quello che farà dopo la sua vicenda personale umana che ci può toccare umanamente, però io dico che ma questa guerra ma come veniva fatta, nel senso che poi dici abbiamo perso, ma abbiamo perso male, proprio male, cioè qui ovviamente ci sarebbe stato da arrendersi subito, nel senso che vabbè, basta, nel senso che così, come combatti, necessaria ma non indispensabile, al 100%, potrebbe anche essere necessaria ma non indispensabile al 99%, quindi diciamo, queste formule veramente da mago della parola, da parolaio, da affabulatore, ecco, Cavallero l'affabulatore, quindi Cavallero l'affabulatore che in ogni circostanza riusciva a rendere quasi accettabile o forse quasi inaccettabile, ecco meglio, quasi inaccettabile la condizione complessiva a livello operativo strategico, e poi per carità era un capoccione, perché l'abbiamo già detto in tanti video, nel senso aveva una sua grandissima intelligenza, una grandissima capacità di risolvere anche problematiche, il problema è che qui sono proprio problemi enormi, che non si sono proprio abissali, cose incommensurabili, ecco, non abbiamo più nafta, non abbiamo più mezzi, non abbiamo più mercantili, non abbiamo più, non ci sta niente, dove le trovi? Nella migliore delle ipotesi te lo prestano i tedeschi, ma i tedeschi non fanno nulla per nulla, non è gratis, gratis non esiste a maggior ragione con i tedeschi, quindi diciamo, cambiamo bene com'è la situazione, poi purtroppo andrà come andrà, nel senso se semi in evento raccogli ovviamente tempesta. Detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!